Ragazzi io direi di far così, visto che non è una cosa semplice, non sarà semplice ma sarà molto interessante Voglio parlare con voi di Mr. Vendetta È un film del 2002 Voi direte, ma che cazzo, c'ha vent'anni sto film È diretto da Park Chan-wok Questa pellicola è quella che è stata definita poi nel tempo La trilogia della vendetta Che vede come primo film Mr. Vendetta Come secondo film All Boy Non so se qualcuno di voi ricorda All Boy Che è un po' più famoso rispetto agli altri film Nel 2003 E poi si è conclusa nel 2005 con Lady Vendetta Che mi manca All Boy l'ho visto un bel po' di tempo fa Ma ha un ricordo abbastanza nitido Perché è un film Con una storia che è articolata ma chiara e semplice Si capisce Già mi pervadono l'emozione ragazzi Allora, questo è il cofanetto meraviglioso della Midnight Factory Mr. Vendetta 4K Voilà Con dentro due dischi Uno il Blu-ray e uno il 4K Poi ci sono anche i contenuti speciali Oh, un coltello C'è sempre un coltello nei film di Park Chan-wok Una rosa Un libretto Con una cartolina da collezione Molto carina questa cartolina Un libretto con dentro poi le foto del film Veramente bella questa edizione Allora Film incredibile Che ti... Adesso ho qua degli appunti perché sennò mi perdo Film incredibile che ti catapulta subito in un megadramma Che è il dramma di una ragazza malata Che è molto malata che sta per morire Che ha bisogno di un rene e di un fratello sordo Che non sa come aiutarla Fa l'operaio E in più poi si ritroverà anche senza lavoro Quindi dovrà trovare un modo per Far sì che venga operata Che trovi un rene E che... E pagarlo anche perché costa tanto Quindi siamo già catapultati in una situazione Che non va bene C'è una società che... Che mette le persone in uno stato di sofferenza Conosciamo già la storia Insomma la viviamo... La vivono un sacco di paesi Questa situazione La povertà E la malattia Il film è girato in una maniera meravigliosa Cioè da un regista che ha una grandissima capacità Di dirigere Di inquadrare e muovere la camera In modo sensato Sempre con grande attenzione e gusto Prendendosi il tempo che gli serve È veramente molto molto bello esteticamente C'è anche un'operazione molto simpatica Che mi è piaciuta molto Dove il personaggio di Ryu Il ragazzo sordo Quando pensa La schermata va a nero Quindi c'è un cartello nero Con il pensiero scritto di Ryu Come se in quel momento Noi fossimo Nella mente di Ryu Come se noi fossimo lui E quindi Lui ovviamente non può parlare Ma pensa soltanto queste cose Noi però le sentiamo Perché siamo nella sua testa Questa è una cosa che comunque Ci catapulta tantissimo dentro al personaggio Sin da subito Ci sentiamo molto empatici Peccato che Che purtroppo ci sentiremo empatici Fino al punto in cui Ryu Non combinerà Una cazzata Di quelle stratosferiche Indotto da un'amica Faranno una Insomma Decideranno Per trovare i soldi Di Di rapire una bambina E Già Già detto così Rapire una bambina Tranquillo Non gli succederà niente Starà benissimo con noi Non le succederà niente E E la restituiremo E avremo i nostri soldi E tu potrai operare Tua sorella Insomma avete già capito La tragedia Lo stesso Ryu Vive un'altra Un'altra ingiustizia Perché Chiederà Comunque cercherà i soldi Attraverso dei mafiosi Che gli faranno qualcosa di male Anche loro Insomma Da una situazione drammatica Si creeranno Tutta una serie di situazioni Drammatiche A seguire Queste situazioni drammatiche Porteranno A delle azioni Di vendetta Da lì il nome Mister Vendetta Da lì L'idea di fare dei film Sul tema della vendetta Niente di nuovo Nell'ambito cinematografico La vendetta È Un tema Uno dei Main Temi Del Del cinema Della letteratura La vendetta Pensate ad Amleto Pensate È pieno di vendette La storia dell'uomo La storia della letteratura E del cinema Quindi Non è niente di nuovo Quello che fa lui Però All'interno di questo tema Della vendetta È fantastico È veramente qualcosa Che Dal mio punto di vista Quindi per la conoscenza Che ho io del cinema È veramente molto originale È molto interessante Poi vi spiego perché Senza spoilerare troppo Però rendetevi conto Che questa Disamina Qualcosina Dovrà pur svelare Quindi O tappatevi le orecchie O O ascoltate comunque Perché Rimango dell'idea Che veramente Questo film In questo film In questo film Come moltissimi Grandi film Non conta tanto Cosa accade Ma come accade E cosa veicola Il messaggio Che Che c'è Nelle scene Nelle situazioni Perché quello che accadrà È abbastanza chiaro A tutti Sin dall'inizio È un film Sulla vendetta A proposito di questo Voglio citare Un proverbio Che secondo me Ci sta benissimo Ed è Ed è A pennello Con Con Tutti i film Di vendetta Soprattutto questo Prima di intraprendere Un viaggio Della vendetta Scava due fosse Diceva Confucio Sapete già Che cosa vuol dire No? Che la vendetta Essendo un sentimento Negativo Un sentimento Distruttivo Semina Altra Negatività Altra Distruzione Quindi Prepara due fosse Significa Finirà male Comunque Per te Tu che ti vuoi Vendicare Genererai Dolore E questo dolore Creerà una vendetta Nei tuoi confronti Quindi Da vendetta Nasce un'altra vendetta E nel film C'è questo tema Chiaramente No? Molto Comune Molto Sentito Che qua viene sviluppato In un modo molto interessante Perché Vedendo il film Di Park Chan-wok La cosa Davvero Stimolante A livello proprio Celebrale Mentre vediamo Il film È che Non riusciamo A stabilire Vedendolo Se siamo Se Park Chan-wok Il regista Sia d'accordo O meno Alla vendetta Cioè Mentre Accompagna Per mano I suoi Protagonisti In questa storia Drammatica Dove Ci sono delle vendette In atto Perché Succederanno Delle cose brutte E qualcuno Vorrà vendicarsi Con i mafiosi Qualcuno Vorrà vendicarsi Con la sordo E la sorella Eccetera E qualcuno Vorrà vendicarsi Con il padre Della bambina Tutto perché Dal male Si genera Altro male Quindi Altra vendetta Non riusciamo Mai a capire Se il regista È a favore O contrario Alla vendetta E questo è Molto stimolante Perché anche Anche noi Siamo di fronte A dei Dubbi Etici Di fronte A questo film In continuazione Siamo continuamente Di fronte A dei dubbi A cui non sappiamo Dare risposte Se noi fossimo Dei giudici Che a un tot Di minutaggio Del film Dovessimo decidere Cosa è giusto E come deve andare Avanti la storia Non riusciremmo Veramente a trovare Una soluzione Perché a volte Sentiamo Che la giustizia Ci dice La nostra giustizia Ci dice Che la vendetta È giusta In un caso E altre volte Sentiamo che però Questa cosa Genera altro male E quindi Non può essere giusta In questo senso È molto È molto bello Perché secondo me Il cinema Questo cinema Il suo cinema Questo è un regista Eccezionale Ragazzi Io me ne ero Dimenticato Di quanto fosse Eccezionale Questo cinema È un cinema Che io amo Il cinema Che mi spinge Ad avere questo canale Perché È il cinema Che ti fa Riflettere Sul quotidiano Su di te Su tutto Su anche Sulle grandi Decisioni Della vita Politiche Tra un po' Si va a votare Insomma Ci sono tanti temi Importanti E vedendo questo film Capite Come se tu Non conosci La storia degli altri Non hai nessuna Capacità di giudizio Sulle situazioni Che in realtà Tu vedi Solo dall'esterno Avendo una visione Globale Della situazione Come ce la fa Avere Park Chan-wok Tutto diventa Molto più Più complesso E difficile Per noi È veramente Stimolantissimo Nel film Ovviamente C'è il tema Della colpa Della vendetta Su più livelli Ovviamente E viene ovviamente Mostrato Che il sistema La società In qualche maniera Ha la responsabilità Iniziale Di tutto questo Di tutto questo Circolo di vendette Perché Mette le persone In una condizione Estrema Per cui Anche nella condizione Di fare cose sciocche Cose pericolose E a capo Di questo sistema Ci sono i ricchi Ok I ricchi Inducono Ovviamente I ricchi Beneficiano Di un sistema Che schiaccia I poveri E quindi Inducono Questi Questi due fratelli Scusate In realtà La sorella Non compie L'atto di rapimento Sarà solo il sordo Con un'amica La sorella sarà ignara Di questa operazione Però appunto Il padre Della bambina È un ricco Quindi È come se fosse Un cerchio Che si chiude Un cerchio Della vendetta Che si chiude In maniera indiretta Scusate È stato Lui Col suo cinismo Perché poi Mostrerà anche Come questo padre Di famiglia È cinico Con i lavoratori Che lui licenzia Quindi Indirettamente Lui È il mandato Cioè Fa nascere Il germoglio Del problema E poi Li ritorna indietro E diventa Un vero e proprio Cerchio della vendetta Molto molto Bello Questo film Perché fa riflettere Su La complessità Dei problemi Sociali Anche Non solo Personali E Non solo Sulle proprie Capacità di giudizio Ed etiche Ovviamente C'è sempre Un unico Innocente Che paga C'è sempre Un innocente Che è solo uno Gli altri Sono tutti colpevoli Quindi Il tema Della colpa C'è E in questo film Come in tantissimi Film di vendetta Chi si vendica Dà La sensazione Di portare Con sé Una colpa Nonostante Sia lui A vendicarsi In tanti film In questo A maggior ragione Mentre c'è L'atto della vendetta Porta avanti Il suo piano di vendetta Noi sentiamo Che chi Il vendicatore Ha delle colpe E E si accumulano Mentre porta avanti Il suo piano di vendetta Qua c'è una sensazione Strana Rispetto Ai film Appunto Di vendetta Più classici Dove Quelli americani Quelli dove Il vendicatore Sopravvive No Il vendicatore Nei film Nei film Commerciali Nei film che vogliono vendere Vogliono avere dei seguiti Il vendicatore Sopravvive Sono fatti Sostrutturati In modo diverso Sopravvive sempre Nei film seri Di vendetta Il vendicatore Non sopravvive mai Non è Non è Contemplato Perché Il cerchio di vendetta Fa sì Che alla fine Di questo Circuito Ci sia sempre La distruzione Totale Dell'umanità Tutto deve Deve cadere Definitivamente Cioè È È qualcosa Che distrugge Tutto Nasce da Da una piccola cosa E diventa enorme Distruggendo tutto In questo film Non c'è Il desiderio Che abbiamo Come negli altri Fini di vendetta Di vedere Il cattivo O colui Che ha generato Il male Morire Perire Essere Ammazzato Diciamo Come accade spesso In questo caso Noi Da una parte Vorremmo Che ciò accadesse Ma dall'altra Sentiamo che è sbagliato In qualche maniera Già detta così Ragazzi Mi sembra Di avervi chiarito Quanto Questo film sia Ricco Ma straricco Di riflessioni E cose Meravigliose Dal punto di vista Del contenuto Della storia Che è fatta Benissimo E sono Ragazzi Due ore Due ore di film Che scorrono Che è una meraviglia Park Chan-wok Ha una capacità Di raccontare Pazzesca È un regista Incredibile Che sicuramente È stato Considerato È stato Criticato Positivamente Da molti Però Spiace Veramente Che Non sia Sulla bocca Di tutti Come può essere Un Nolan Come può essere Un qualsiasi altro Regista americano Ecco Ci sono Registi Che hanno fatto Molto meno E che mostrano Grandi limiti Nel linguaggio Cinematografico Nella capacità Di narrazione Che questi Registi Asiatici Non mostrano Perché anche Regista di Parasite Che tra l'altro Sono amici Sono Insomma Sono persone Che si frequentano A livello intellettuale Sono Registi Che sanno Raccontare Bene i film Sono Pazzeschi Pazzeschi Questo è un film Con tantissime idee Bellissime Del resto Il regista Di Mr. Vendetta È Una persona Che Ha deciso Cioè Per farvi capire L'estrazione La scuola Ha deciso Di fare regista Dopo Essere rimasto Folgorato Da La donna Che visse due volte Di Alfred Hitchcock Quindi parte Da quel cinema lì È quel cinema lì È il cinema Figlio di Alfred Hitchcock Tantissimi Grandi registi Partono Da quel Regista lì Da quel Paffutello Regista Geniale E diventano Questo Prendono La scuola Cinema La scuola del cinema Il linguaggio Cinematografico E lo riadattano Lo usano Semplicemente Ciò che Hitchcock Gli ha dato Non è Non è Non stiamo parlando Di geni Forse sì Un pochino Stiamo parlando Genio per me Hitchcock Stiamo parlando Di persone Che Intelligentissime Che vedono Hitchcock Lo assorbono Più che possono Lo fanno loro Più che possono E poi Raccontano La loro persona La loro società Il loro paese I loro usi I loro costumi Ed ecco il cinema Asiatico Questo succede Parasite È evidente Anche Parasite Faccio l'esempio Perché comunque Un regista simile È anche Hitchcockiano Parecchio In tantissime cose C'è anche lì Una grande capacità Di raccontare E di dirigere Di riprendere Di montare Un film Come si deve In questo film Ci sono Tantissime cose Belle C'è una fotografia Strepitosa Come sempre E una cosa Che mi è piaciuta Tanto Perché ve l'ho descritto Come un film Drammatico Che diventa Un thriller Che diventa Anche un po' Violento In certe scene Anzi Un bel po' Violento Diventa Ragazzi Ma è anche Un film Estremamente Drammatico Dove ci sono Scene toccantissime Strazianti Perché Park Chan-wok È veramente Un esploratore Delle Emozioni In un modo Pazzesco È straziante È È pesante Da Da superare Però Nella sua volontà C'è anche Quella di creare Di prendere Un film così Drammatico Così thriller Così cupo E Remare contro E andare verso Un genere Che è la commedia Quindi C'è veramente Tanta roba In questo film Perché lui Fa di tutto Per renderlo Anche una commedia E ci troveremo Dentro Un Umorismo Assurdo Assurdo Di un grottesco Ma Divertente Comunque Un umorismo Che capiamo Che Riusciamo a capire Che ci fa ridere Che In qualche maniera Rende La visione Del film Ancora più gradevole Perché Secondo me Gli dà Quel tocco Che rende il film Qualcosa di Anche se è una grandissima Messa in scena Teatrale Come lo sono tanti film Il giusto equilibrio Il giusto equilibrio Di umorismo Dramma Morte Lutto Perché il tema Del lutto È Presente Sempre Nel suo cinema La commedia Gli dà Quel tocco Di realismo Sembra assurdo Dirlo Ma Che è la vita La vita è Drammatica È Pesante È Violenta Ma è anche Ironica È È anche Divertente Quindi Il suo cinema È Un insieme di cose Così E Saprà creare Veramente Un viaggio Meraviglioso Ragazzi Anche se Qualche cosina Magari Ve l'ho spoilerata Ve lo godrete Ve lo garantisco Al cento per cento È Più una questione Personale Perché Personalmente Ho vissuto Tre lutti Nell'ultimo anno Molto importanti E Quindi Rimango Molto più colpito E affascinato Dall'elaborazione Del lutto Nei film In questo film Ci sono delle Situazioni Molto toccanti Che mi hanno Veramente Commosso Toccato proprio Nel cuore Quindi È evidente Che Ciò che io ho visto Non è detto Che sia quello Che vedrete voi Però c'è C'è stata C'è una scena Molto bella In cui Io ho definito Il funerale Della mano O il funerale Con la mano In cui Un personaggio Dirà Dirà Dio A una persona Molto importante Stringendole la mano Questo personaggio È morto E lui Avrà occasione Di toccargli la mano Fugacemente In una situazione Di pericolo Fugacemente Avrà Avrà Modo Di toccarle la mano Ma lo farà Lo farà Comunque Perché Perché sente Il bisogno assoluto Importantissimo Di fargli Di fargli il funerale Cioè Quello è un funerale Simbolico No Dirgli addio Funerale Noi Possiamo Noi facciamo Il funerale apposta Per dire addio Ecco La versione formale Di Del nostro saluto Ecco Nel film Lui non potrà Rivedere Il cadavere Della persona Che ama A cui vuole bene E allora Fugacemente Gli toccherà la mano E gli farà Delle carezze sulla mano E Mi è piaciuta tantissimo Perché l'ho trovato Proprio Scena molto Comunicativa Simbolica Importante Anche ai fini Del Del farci sentire Come emotivamente Il Il personaggio Si sente Lo stato in cui è E come si Evolverà dopo Ci sono anche Altri Altri momenti Che però Veramente Molto Molto Toccanti Che però Non voglio Raccontarvi Perché sarebbero Spoiler E ho l'impressione Un po' Che molti di voi Non abbiano visto Questo film Nei contenuti Extra Di questo Del secondo disco Vi ripeto Qua c'è Un 4k E Un disco Blu-ray Dove c'è il film In blu-ray Quindi se non avete Il 4k Lo potete prendere E poi Avere il film In due formati Nel blu-ray Ci sono gli extra Cioè lì Ci sono gli storyboard Un po' di cose Trailer Ma soprattutto C'è un making of Molto carino Dove I personaggi Vengono Insomma ripresi Nel backstage Li vediamo recitare E devo dire che L'attore Adesso Mi sono segnato il nome Perché è molto difficile Song Kang Ho Che è questo qua È qualcosa È qualcosa di Io Lo amo Io amo Questo attore qua È veramente qualcosa Di fenomenale Perché vederlo recitare Nel film Vabbè È tantissima roba Vederlo Nel backstage Mentre tutti Lavorano Con telecamere E cose E lui Che cambia espressione Ed entra Nel ruolo E cazzo Stai vedendo il backstage E ti sembra Veramente Comunque Il personaggio Che stai interpretando È veramente qualcosa Di mostruoso Poi ci sono Delle piccole intervistine Agli attori A lui Molto toccanti Molto carine Che ti danno Un po' la dimensione Di quello che È Il loro cinema Veramente Molto Molto bello Il Anche il Il contenuto I contenuti extra Non sono Ricchissimi Non è ricchissimo Di contenuti extra Devo essere sincero Però È un film Eccezionale Questo è uno È un film Eccezionale È un film Eccezionale Non è Non è propriamente Un horror È un thriller Molto drammatico E ironico Con alcuni tocchi Grotteschi Particolari Simpatici È Qualcosa di Inaudito Questo attore qua Di cui non vi sto a ripetere il nome Perché è molto difficile per me È anche L'attore di Thirst Che è un film Sui vampiri Sempre di Park Changwok Di cui ho appena scritto la recensione Devo fare una correzione Di bozza La pubblicherò Quindi vedrete la recensione scritta Di questo film Ed è anche questo Un film molto bello Immagini meravigliose È un grande cinema Veramente un grande cinema Finisce qua la mia recensione di Mister Vendetta Vi consiglio l'acquisto Assolutamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti